Eletrizzata. Mi sento allegra e piena di idee. Ispirata. Motivata. Sono venuta ad Abilmente perché ho la passione per il cucito. È un appuntamento fisso per me ormai, saranno otto anni che vengo e devo venire tutti gli anni. Sono felice perché trascoro una giornata alternativa insieme a mia figlia. È entusiasta. In famiglia abbiamo un po' la passione di tutto quello che è creativo e quindi qui troviamo tutto quello che ci può servire.